Buongiorno a tutti, sono Min di PoliDesign. E la prima volta che ero in China è nel 2010. Quando sei venuta in Italia per la prima volta? Sono venuta in Italia nel 2007. Ho vissuto a Roma per 5 anni, poi per due anni sono rientrata in Cina. Nel 2015 sono venuta di nuovo in Italia a vivere in Milano mai da 5 anni. Su Begine hai去過 città cengsi ma? Sede, in Begine ceho, ho chiuso a Szechuan Daa a studiare. Ho chiuso a Szechuan Daa a studiare in Cina. Ho chiuso a Szechuan Daa a studiare in Italia. E poi ho chiuso a Szechuan Daa a studiare in Italia. Grazie a quella esperienza lavorativa sono immessa nell'opera lirica, nell'atte di rinascimento, eccetera. Sentivo che la cultura italiana era già nel mio sangue. Allora nell'età di 30 anni ho deciso di abbandonare la mia vita da well-established white-collar pekino e venire in Italia a tutti i costi. Allora neanche conoscevo i basic della lingua italiana. Ma che vorrei a tutti i più, intenzione? L'ha ma che avere una sensazione di una cosa che vuole mai in America ha unemiché che stanno in Italia. Con el nostro paio si hanno presente un po' di meno di più, a quella di noi in Italia. Quindi, noi poichi ciò che sono proprio un po' di più. Ma quando hai capito che entrano le postur di loro, mai dovrebbero le posturi, allora ho capito molto anche. E' una persona che hanno detto che con i noni è più parecchi, Quindi con loro le rapporto è molto bene. Alla città di tutti i nostri per i nostri, è stato l'unico per i nostri. E la città di tutti i nostri amici, è molto simile. Voi molto piacere, molto piacere. Ho fatto un'unico per i nostri amici. Mi sono inizia a Milano, Inoltre, ho trovato ostacoli culturali o linguistici non appena arrivata in Italia? Direi di no, anzi proprio zero. Non ho mai sentito questa differenza culturale, tra virgolette come dicono tutti. Per problemi linguistiche l'ho superato in tre o quattro mesi, quindi quasi da subito mi sono integrata bene in Italia. Perché ti piace Milano? Sei milanista? Io molto piace Milano. Oggi non sono milanista, ma sono da Roma. In Italia non potrei scegliere a lavorare o a lavorare. Milano è il Cazzi in Italia Italia c'est gigante di T moto. Siamo da venido sempre數 di tre casi toden. Programmi ogni giorno città daraph robić tubile vien atruttare fino a��요. La sensibilità è poch serenie per milan Come ti sei trovata a Roma? All'inizio tutto era una poesia, un romanzo. Per me Milano è una città intrista di meraviglia che non passa tutta la vita per scoprire tutti gli angoli della sua bellezza. Ho sempre sentito che gli italiani si lamentano che a Roma fa casino, che confusione, ma essendo una pecchinese diciamo che sono abituata ad amare tutti questi problemi io non li vedo proprio. Ma il Pecchino capisce che vuol dire traffico, no? Invece l'unica cosa che mi ha fatto soffrire è stata l'insoddisfazione professionale. A Roma le offerte lavorative non si trovano in giro facilmente salvo quelle del settore turismo che non è una roba per me. Allora alla fine ho deciso di chiudere questo capitolo e sono rientrata in Cina. Do you think you would like to go to Milan? è stato molto importante ovviamente i miei lanci di tutti i miei lanci anche i miei lanci e i miei lanci sono molto bello ovviamente i miei lanci è stato molto importante quindi i miei lanci e i miei lanci e anche se se volete in questo lavoro quindi i miei lanci hanno bisogno di andare in questo modo per aiutare i miei lanci e anche Milano è molto bello quando vengono a studiare e lavorare quindi i miei lanci sono molto bello e invece come ti trovi a Milano? da quando sono venuta a Milano ho sempre lavorato nel settore della moda e del design come sapete Milano è la capitale mondiale della moda e del design con tante belle iniziative come Milano Fashion Week salato immobile, fuori salone ecc Milano è una città spiritualmente molto stimolante e viva che non ti annoia mai anche questa è la città che mi ha sempre dato la massima soddisfazione sia personalmente che professionalmente ora lavoro con grande augurio presso Poli Design che fa parte del sistema design del Politecnico di Milano in questo ranking ambito di art e design risalto come il primo posto in Italia e il sesto in tutto il mondo per me è una bellissima sfida quella di far conoscere questa eccellenza italiana anche nel mondo cinese In Milano, hai hai chunghi di Milano? C'è una cosa che c'è? 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 Ah, non grazie a tutti che c'è questo ma casa Quali consigli daresti ai giovani cinesi che vengono a Milano per studiare e lavorare? Alla fine mi trovo così bene a Milano che ho deciso di fermarmi qua. Se ce lo faccio io e alla mia età, sicuramente fate pure voi i giovancelli. Milano vi aspetta a bracciapette per avviare le vostre meravigliose avventure. Adesso fate un saluto, ciò è che con te la dà un giovane, ciao a tutti! Ciao, ciao!